ragazzi buon pomeriggio sono le 4 e 32 attenzione guardate che cosa c'è in cielo un enorme zucchero filato guardate guardate attenzione proprio c'è una cosa stranissima come ve lo spiegate siamo in diretta come potete sentire c'è anche un'ambulanza che sta passando dietro di me però questa cosa è un po strana fatta a zucchero filato ma non so non saprei dare una spiegazione ditemi voi che cosa ne pensate